L'edificio scolastico situato nella frazione Cudine di Corio non sarà alienato e continuerà ad essere utilizzato come simbolo della lotta partigiana e sede dell'ecomuseo minerario di Balangiero a Corio e del Museo Etnografico. Lo ha annunciato il consigliere delegato al patrimonio della città metropolitana di Torino Mauro Carena durante un incontro che si è svolto nella mattinata di giovedì 10 settembre in un'aula della scuola dedicata alle vittime del genocidio del 23 agosto 1944, in cui persero la vita 27 partigiani, molti dei quali appartenenti all'arma dei carabinieri. Oltre ai sindaci di Corio e di Quassolo erano presenti i rappresentanti dell'AMPI, tra i quali la vicepresidente provinciale Chiara Ciarini e il vice coordinatore di zona Stefano Bona. La scuola, inaugurata nel 1973, è di proprietà dell'AMPI, è stata utilizzata per cinque anni. In seguito, l'edificio è stato donato alla provincia di Torino, con i vincoli giuridici e morali, per poter dare continuità all'opera di memoria fortemente sentita in tutta la zona. Per il suo inserimento in un percorso museale, sono stati attivati accordi con associazioni locali e con la RSA, la società incaricata del risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di Amianto di Balangiero. La notizia, consigliere Carena, è che la scuola dedicata ai martiri del Cudine verrà esclusa dall'elenco dei beni alienabili creato dalla città metropolitana. Sì, questo è un elenco di beni alienabili, nel senso che noi come riordino, anche come città metropolitana, abbiamo dovuto procedere a un'elencazione, abbiamo dovuto rivedere tutti i nostri immobili che abbiamo ereditato, come giuridicamente si sa, dalla provincia di Torino. Ovviamente in questo elenco questo bene è stato inserito con tutti i vincoli, quindi vincoli di destinazione, vincoli urbanistici, vincoli soprattutto anche di quello che è l'attività di Ecomuseo, per quello che riguarda l'Ampi, la Resistenza o per quello che riguarda l'Amiantifera di Balangiero e di Corio, sono già inseriti nel fascicolo immobiliare. Però mi rendo conto che in questa materia la rappresentanza, l'immagine sia anche e diventi anche sostanza. E allora anche grazie alla collaborazione con i comuni, i locali, grazie ovviamente alle comunità, grazie all'Ampi e a tutti coloro che hanno già lavorato, noi vorremmo primo dire che questo bene verrà tolto da ogni futura possibile elencazione di beni alienabili, perché nessuno abbia l'immagine, non la sostanza che non è mai stata messa in discussione, ma nessuno abbia neanche l'immagine che questo bene possa essere trattato come un qualunque edificio su cui fare cassa, assolutamente. Secondo, che con l'occasione ci sia un momento di approfondimento e di rilancio con il nostro contributo delle attività che qui già si sono svolte e che si stanno svolgendo. Terzo, per ribadire, infine, Sindaco Fassino, tutto il Consiglio metropolitano, sono persone, prima ancora che istituzioni, che la loro attività politica e amministrativa la improntano ai valori in cui proprio qui si testimoniano, quindi resistenza, sacrificio, etica, socialità, salute per i lavoratori. Sono cose che noi sentiamo sulla nostra pelle e ci mancherebbe che anche simbolicamente non le valorizzassimo.